La denuncia è del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mario Conca, componente della Commissione regionale della sanità, che ha chiesto alla Giunta regionale di corrispondere agli emo danneggiati quanto dovuto. Lo Stato, nel 2015, ha disposto in favore delle regioni e delle province autonome l'erogazione delle risorse per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indenità integrativa speciale, ripartite per gli anni dal 2015 al 2018 a quelle persone che, in seguito a trasfusioni di sangue infetto, avevano contratto malattie invalidanti. Nella delibera trasmessa dal Dipartimento Politiche per la promozione della salute della regione Puglia, ai direttori generali delle ASL erano stati definiti anche i criteri per il pagamento degli arretrati ai beneficiari, comprensivi degli interessi legali. A queste persone, spiega il consigliere del Movimento 5 Stelle, Mario Conca, è stata poi richiesta a gennaio 2016 la compilazione di un modulo nell'imminente erogazione delle somme. Da allora è calato il silenzio più assordante. Lo Stato, ha ricordato Mario Conca, ha trasferito alla regione nel 2015 i fondi, ma pare che oggi ci si ritrovi di nuovo in presenza di carenze finanziarie, nonostante queste somme siano vincolate. È legittimo protestare, ma si deve sapere che la cassa è quella, gli spazi finanziari sono quelli e dobbiamo trovare un punto di mediazione per evitare il default della regione. Questa è la replica del presidente Emiliano. Stiamo lottando contro un'infinità di esigenze che derivano da decisioni romane che sono state prese sul bilancio della regione Puglia, prosegue Emiliano, e noi ovviamente cerchiamo di fare il possibile. Sono milioni e milioni di euro che improvvisamente, ha aggiunto il governatore, si sono scaricati sul nostro bilancio a entrate invariate, anzi ulteriormente diminuite. Qui non c'è più un euro e noi cerchiamo di fare il possibile. Adesso, che presenteremo la bozza di bilancio, tutto questo sarà assolutamente chiaro.